Ciao a tutti ragazzi, oggi sono qui con un video che si parlerà di Minecraft e di EdoBrain. Come vedete non ci sarà nessun video, potete soltanto commentare, ma basta. C'è una chiamata per te. Che se ne frega. Si è bloccato. Ah questi bug, vabbè. Comunque EdoBrain si trova nei sebe con la mod di EdoBrain e nei sebe non con la mod di EdoBrain. In realtà alcuni hanno richiesto, ho visto su alcuni video, molti di aver visto EdoBrain fra nebbia. Alcuni l'hanno uccisi, alcuni hanno andato alla caccia che l'hanno visto, alcuni eccetera. E tra poco mia sorella non abbassa la voce e la chiudo nell'ammario. Vabbè. Eh EdoBrain è fratello morto di nocce, come sappiamo tutti. Togliamo questo mauro. Comunque, eh, cosa posso parlarvi? Nera mod cercherà di uccidervi, eccetera. Io ci ho provato quando avevo il mio Minecraft prima che mia sorella me lo cancellasse. Oh, abbassa quella voce da gallina! Queste donne! Senza offesa, eh ragazze! Senza offesa! Comunque, EdoBrain, come si dice? Come posso spiegare? EdoBrain cercherà di uccidervi, si troverà nei sebe, eccetera. Come vedete, alcuni, mentre scavano, si girano e si trovano questi occhi là davanti. Poi... Questo pacchi. Questo black. Comunque, poi, scusate. Poi, in alcuni vedono comparire degli occhi nella nebbia, come questo. Uno cominciò a prendere il legno e nella nebbia trovò una mucca, insomma. Trovò una mucca, pensavo che fosse una mucca per ottenere il cuoio. Invece vede una schimma umana, però senza occhi, che in realtà sono gli occhi di un fantasma. Uno il terramoto. Scusate, devo evacuare la casa perché c'è il terramoto. Quindi ciao, Rocco.